Ciao amici di Pillole, siamo tornati per festeggiare la Pasqua. No, non è vero, non siamo tornati, sono solo una piccola parentesi. Proviamo a fare gli auguri di Pasqua e spero che anche voi la festeggiate con noi e con tutta la famiglia. Sì, non è vero, non è vero. Vediamo grazie Carlo. E' merda, non è vero. L'unica cosa bella della Pasqua è andare in giro a comprare le uova per tutti. Andiamo a comprare le uova e il luogo è solo in merda, ragazzi. Siccome quest'anno abbiamo deciso di fare le uova anche alle zie e ai nonni, abbiamo preso le uova rifalde. Quattro euro. Grazie. La sorpresa, un biglietto con la scritta sorpresa. Oggi invece è lunedì dell'angelo, cioè Pasquetta. non sappiamo neanche dove stiamo andando. Intrusi per la prima volta che lo organizziamo noi. Sarà una cosa interessante. Sennò ce l'abbiamo felici. L'abbiamo pagato. Ciao. Ciao. Grazie a tutti 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 Ciao Ci vediamo a Ferragosto